Il tavolo che si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico non scongiura la cessione degli otto punti vendita del Lazio Sud, Pomezia, Fiuggi, Velletri, Aprile, Agenzano, Colleferro e Frosinone. Prosegue quindi lo stato di agitazione dei lavoratori. Presente all'incontro, oltre ai sindacati di categoria Filcam CGL, Fisa Scaccisle, Wiltux Will, gli amministratori regionali di Lazio e Toscana, oltre ai rappresentanti degli schieramenti politici di maggioranza ed opposizione. I sindacati, sollecitando lo stop alla riorganizzazione, hanno ribatito la forte preoccupazione sulla tenuta complessiva di Unicop Tirreno, sin da un punto di vista commerciale, sia finanziario che patrimoniale. In particolare, il segretario nazionale della Fisa Scaccisle, Vincenzo Dell'Orefice, ha stigmatizzato la volontà manifestata dall'impresa di procedere non solo alla cessione dei negozi del Sud del Lazio, dove circa 270 lavoratori vivono nell'incertezza sul loro futuro occupazionale, ma anche rispetto al superamento della contrattazione integrativa e dell'accordo sull'occupazione, che avrebbe avuto naturale scadenza il 30 giugno del 2020. Per la Fisa Scaccisle, aggiunto Dell'Orefice, non è comprensibile che un interlocutore chiunque, Susia, si disimpegni da condizioni condivise e sottoscritte poco più di un anno fa, che dovrebbero restare in vigore per due anni e mezzo. Il sindacalista auspica che il management della COP riveda la sua posizione. Se il mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia commerciale, anche nelle regioni Lazio e Umbria, dice, sarà ritenuto un'opzione possibile, siamo certi che un confronto negoziale franco e aperto riuscirà nello scopo di conciliare la salvaguardia occupazionale e di rilancio dell'impresa. I rappresentanti della Unicop Tirreno si sono riservati di riportare le richieste dei sindacati alla presidenza della cooperativa. Il Mise, comunque, ha espresso la disponibilità a riprendere il tavolo di confronto.